Il teatro classico arriva ai quartieri spagnoli di Napoli. I bambini delle scuole medie hanno interpretato Dante, mettendo in scena la Divina Commedia, attualizzandola con i temi più significativi della società moderna. Ad organizzare l'iniziativa la Fondazione Focus. Con Rachele e 70 di questi splendidi bambini siamo stati a Matera, dove abbiamo fatto il purgatorio di Dante, con centinaia e centinaia di cittadini di Matera. Una grande e sacra rappresentazione. E da lì il desiderio di Rachele, che noi abbiamo preso al volo, di continuare l'esperienza in questi anni, con tanti bambini della scuola, qui di Focus, per sentire insieme quanto la favola che Dante ci racconta, quest'uomo perso nella selva oscura, è la favola che ci riguarda tutti, riguarda l'intera umanità. È il cammino dalle tenebre alla luce, dal male e dalla sofferenza a una possibile impensabile felicità. È una riscrittura libera della Divina Commedia, che tratta temi universali. I peccati che Dante porta nei gironi dell'inferno sono i peccati che anche i nostri bambini riconoscono. Il tradimento, la golosità, l'omicidio, le rapine, sono cose che loro sentono, capiscono e l'hanno portato in scena così come loro lo vivono.